Lavori in corso lungo la statale adriatica Marotta di Mondolfo per la realizzazione di un nuovo parcheggio gratuito al servizio di cittadini e per turisti in vacanza nel periodo estivo. L'area sosta infatti sorge a soli 300 metri dalla zona mare e più precisamente tra il distributore e il sottopasso Togliatti. Il terreno di una superficie di circa 2.500 metri quadrati è stato acquistato all'asta dal comune per una cifra di 76.000 euro. In questi mesi ruspe e camion sono già in movimento per completare la prima parte dei lavori per l'arrivo della bella stagione. Sì, abbiamo avviato i lavori per un grande parcheggio sulla statale. Il comune di Mondolfo ha recentemente acquistato all'asta un ampio terreno situato qui al centro di Marotta in una zona strategica lungo la statale tra il sottopasso Togliatti e piazza Roma ed è un primo step necessario per proseguire con l'obiettivo dell'amministrazione di realizzare un grande parcheggio in un'area di circa 2.500 metri quadrati che il comune di Mondolfo ha acquistato nei mesi scorsi. Abbiamo avviato la progettazione per la realizzazione di un parcheggio di circa 90 posti auto. Intanto abbiamo iniziato i primi lavori per rendere quest'area fruibile per l'inizio della stagione estiva. Ed è un servizio importante sia per le attività qui lungo la statale ma anche per i turisti, tutti coloro che raggiungono il nostro lungomare durante la stagione estiva. I lavori inizialmente prevedono una pavimentazione in stabilizzato, poi nei prossimi anni dovremo inserire delle risorse nel bilancio comunale per realizzare il parcheggio con asfaltatura, con illuminazione e alberature. Il parcheggio comunque sarà gratuito e poi aggiorneremo nelle prossime settimane la cittadinanza su quando sarà fruibile.